Pillole di movimento è la campagna di sensibilizzazione promossa dalla WISP di Bologna in coprogettazione con l'AUSL di Bologna con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica come medicina naturale per combattere la sedentarietà. Grazie alla collaborazione di Lloyd's Farmacia Beni, la Federpharma, le istituzioni e i partner di progetto potrai svolgere gratuitamente un mezzo di attività fisica presso società sportive, palestre e piscine che hanno aderito all'iniziativa. Nella confezione troverai un bugiardino su cui sono riportati il regolamento e le strutture convenzionate. Visita il sito www.wispbologna.it, ritira la tua confezione e scegli l'attività più adatta a te.